L'argomento è abbastanza importante e sconfinato, ma in fondo anche semplice. Nel nostro caso, per toglierci ogni tipo di merito, la convergenza nasce da una mera esigenza di sopravvivenza. Quando ci chiudono la fabbrica, di colpo, è vero, noi ci eravamo preparati a quell'evenienza, c'è una storia di dieci anni di ragionamento su che cos'è un modello sindacale democratico, partecipativo, rivendicativo, che provi a rompere la delega tra i lavoratori. La convergenza con le lotte ambientali era di una fabbrica che abitava il suo territorio, quindi si oppone, si opponeva all'allargamento dell'aeroporto, all'inceneritore. Le nostre reti sociali erano già reti comunitarie perché, grazie alla capacità di difendere i diritti in fabbrica, ti liberavi il tempo libero e il tempo libero poi ti ritornava in legami sociali con il circolo arci, la misericordia, la parrocchia, con tutto quello che quei lavoratori, che i nostri lavoratori, erano al di fuori delle otto ore di lavoro. Però al contempo, quando ci chiudono la fabbrica di colpo e improvvisamente la riprendiamo e dobbiamo gestirla, il tempo accelera e ci rendiamo conto della complessità delle questioni che ci venivano incontro e di come l'unica nostra speranza di sopravvivenza fosse aprire, aprire, aprire completamente. Aprire a chiunque avesse qualcosa da dire, a chiunque avesse ovviamente il nostro campo sociale, di classe e all'interno della necessità di salvare la fabbrica e quindi siamo ritrovati a fare turni compagni e compagni di ogni corrente sindacale, della finanza critica, della banca etica, del movimento ambientalista e ci siamo resi conto che dentro questa contaminazione di forze che si creava in questi primi mesi di occupazione della fabbrica non c'era soltanto un mero prendere atto che se siamo di più siamo più forti ma c'era una forma di accumulazione di una classe dirigente che noi stavamo mutando e che dentro questa mutazione c'era l'unico modo che noi avevamo per sopravvivere come vertenza. Su questo poi nel tempo sono stati costruiti ogni tipo di consigli o suggestioni o anche diciamo voci ma allora voi volete fare il partito, voi volete fare il soggetto politico, voi volete fare il coordinamento, voi volete fare il sindacato autonomo. La realtà è che noi siamo resi conto che quello che stavamo facendo non era il soggetto politico come spesso ce lo siamo intesi classicamente ma stavamo soggettivando politicamente la lotta cioè mettendo la lotta nella capacità di comprendere come si doveva muovere per vincere non per altro o per resistere o per sopravvivere dentro il contesto che ci eravamo dati. Per cui quando un presidio è un bar tra gli operai è un problema anche di alcolismo e quindi hai una convergenza con la brigata Basaglia, con il problema delle dipendenze. Quando crei del mutualismo interno ti rendi conto che spesso il lavoratore che ti chiede soldi lo fa perché ha delle ludopatie. Quando devi coinvolgere i compagni ti chiedi quali sono per esempio i bisogni e le sessualità, l'identità che abbiamo in fabbrica e che non sono mai venute fuori. E paradossalmente più lotti, più fai comunità, più la comunità sente il bisogno di occuparsi di questo e più ti nascono questi bisogni all'interno. La convergenza ovviamente per una fabbrica che produce auto è più semplice da comprendere. È stato anche ribaltare immediatamente l'idea che noi stessimo perdendo il posto di lavoro perché c'era il movimento ambientalista che chiedeva la fine dell'auto privata. Noi abbiamo immediatamente ribaltato questo e ci siamo collegati a chi chiede la fine dell'auto privata. E anzi, noi chiediamo la fine dell'auto privata, tanto più che il capitale oggi a me come Cassi Integrato non mi permette l'auto né di produrla né di comprarmela e quindi non ha nemmeno ragioni economiche per rivendicare quello e per non rivendicare invece che la mia fabbrica sia inserita dentro il polo pubblico della mobilità sostenibile. Improvvisamente dentro questa convergenza è come se ci si aprissero legami uno dopo l'altro, connessioni, come se improvvisamente iniziassimo a incontrare per la nostra strada persone, realtà distanti da noi geograficamente e anche nella tradizione politica con cui parlavamo istintivamente la stessa lingua. E io non penso che questo sia solo un merito soggettivistico, anzi fondamentalmente non lo è. Io credo che sia un processo che noi abbiamo di fronte agli occhi. E in questo processo quello che noi abbiamo riscontrato è che non c'è una divisione verticale. Io magari mi augurerei che ci fosse tra sindacalismo confederale, sindacalismo di base, tra organizzazioni partitiche e movimenti. Purtroppo la divisione è molto meno chiara. E la verità è che c'è un processo che si è messo in atto di convergenza, di lotte, di territori, di soggettività. Non è un processo che può collassare organizzativamente oggi in nessun soggetto e non è quello che stiamo proponendo infatti, ma che dovrà per un periodo vivere di territori e di lotte che convergono, insorgono in base allo slogan che noi abbiamo detto del per questo, per altro e per tutto. Cioè tu hai un tuo prevalente in quel momento nella tua attività. Qua vedevo che è per esempio in questo momento l'opposizione al TAV. Poi c'è il per altro. Se tu un domani fai una mobilitazione, io vengo perché sono in solidarietà a questa lotta perché è una lotta contro il capitale. È una lotta contro lo stesso capitale che ha chiuso la mia fabbrica per altre vie o che comprime il mio salario. È il per tutto, nel senso che mi rendo conto che dentro questa lotta noi sviluppiamo una classe dirigente diversa, un modello differente. O se penso a quello che ho appena visto qua dentro, no? Tutta questa struttura, lo dicevo prima battuta, noi vi dobbiamo mandare una squadra di compagni e compagni e voi gli dovete insegnare tutto. Non perché sono arrivato qua oggi e mi sono fascinato per quello che ho visto, ma perché è esattamente la stessa cosa che noi stiamo provando a fare. E non la stiamo provando a fare perché un giorno abbiamo deciso che bisognava fare questo, ma perché il capitale ci sta obbligando a farlo. Noi abbiamo avuto tre fasi nella lotta. La prima lotta è stata quella della lotta contro il licenziamento in tronco, che sembrava la più violenta, ad oggi è stata la più facile. Paradossalmente. Poi la lotta contro il logoramento e quindi contro quell'idea allucinante per cui il capitale privato tiene in ostaggio una fabbrica rivendicando i soldi dell'Inps e della collettività per logorarci, mentre contemporaneamente a proposito di reddito fa la polemica contro il reddito di cittadinanza. Noi riceviamo un reddito di cittadinanza, se volete la Cassa Integrazione, stiamo lottando in tutti i modi per uscirne. Il nostro proprietario, siccome è di estrazione renziana, a Cassino fa le campagne contro il reddito di cittadinanza, mentre ci minaccia di firmare assolutamente la Cassa Integrazione perché lui lo stipendio non ci può permettere di pagarcelo, perché sta tenendo la fabbrica ferma, per dire come nella convergenza tu riesca a smascherare ogni aspetto e ogni ipocrisia anche del capitale. Al che siamo alla terza fase, dove è stato dichiarato apertamente che questa fabbrica, la fabbrica dove io lavoro tutt'oggi, nonostante sia ferma, non ripartirà se non con fondi pubblici. Solo che ci sono i fondi pubblici che ancora non sono stati concessi, non c'è il controllo pubblico, non c'è la pubblica utilità, non c'è la politica industriale pubblica. Contemporaneamente, quindi, noi ci siamo dichiarati fabbrica pubblica e socialmente integrata, ma cosa intendi per fabbrica pubblica e socialmente integrata? L'idea che arriva in vitalia a questo Stato e tanto più questo governo o il prossimo è che ti fa realmente una fabbrica pubblica come noi la intenderemmo? È evidente che quando noi intendiamo fabbrica pubblica e socialmente integrata intendiamo un esperimento collettivo dove noi sfidiamo il capitale nel metterci soldi, il capitale pubblico, e nello sviluppare forme di controllo operaio su questo capitale in una lotta palmo a palmo e contemporaneamente per fare questa lotta noi abbiamo bisogno della convergenza. La convergenza sia di competenze solidali ma anche la convergenza di un intero territorio con tutte le sue esigenze e quindi la fabbrica pubblica e abbiamo aggiunto socialmente integrata è la fabbrica che dentro ha l'ambulatorio, l'emporio, i gruppi di acquisto solidale collegandosi a loro volta con le reti contadine solidali e non è un caso che il 9, la giornata campale per la fabbrica pubblica e socialmente integrata, avrà due assemblee. Uno di fronte alla fabbrica col mercatino di Genuino Clandestino che è una rete che a Firenze ha una cascina senza padroni e contemporaneamente dentro l'assemblea dove si forma il nostro comitato tecnico scientifico, il nostro team contabile e tutto questo partorirà un'associazione che però ha voluto avere nel nome un richiamo al mutualismo quindi si chiamerà società operaia di mutuo soccorso e il riferimento all'insorgiamo cioè a quell'immaginario collettivo perché altro non è che ti richiama la necessità comunque di cambiare rapporti di forza e che quindi questo sia tutto uno strumento di lotta. Nel fare questo abbiamo invitato qualsiasi altro territorio o qualsiasi altra realtà a insorgere e abbiamo detto semplicemente se voi insergete noi convergiamo e quello che sta avvenendo è che qualcuno ha risposto voi avete risposto tante volte Bologna ha risposto è una lotta contro una grande opera inutile come il passante ma non solo il modello della logistica il modello emiliano la questione ambientale le reti contadine provano a insorgere il 22 ottobre questo costringe la città a discutere di che cosa vuol dire convergenza si sviluppa una discussione sulla convergenza ma subito dopo c'è un altro prevalente legato al noi non paghiamo alle bollette alla lotta contro la criminalizzazione del reddito di cittadinanza e quindi subito dopo c'è Napoli e la cosa bella è che chi sta preparando la mobilitazione su Napoli verrà a Bologna a discutere della mobilitazione su Napoli e quindi si creerà ulteriore convergenza in tutto questo noi come collettivo di fabbrica cerchiamo di sfumare come dire di abbandonare il più rapidamente possibile il centro perché se ti metti al centro pon in pericolo te pon in pericolo la lotta pon in pericolo il processo perché oggi la lotta resiste se è multicentrica sia per resistere alla repressione sia perché ognuno di noi può cadere ognuno di noi può sbagliare e quindi cerchiamo di creare una serie di rimandi dove non ci sia un solo protagonista ma ci siano tante lotte che prendono un prevalente in quel momento anche in base ovviamente purtroppo all'emergenza che ti pone il capitale ma che sono in grado poi parlandosi di accumulare una classe dirigente dal basso che sappia come dire non solo sloganisticamente contestare l'esistente ma anche saper effettivamente contro dirigere la società per terminare per terminare brevemente sul tema del salario che è quello che è stato posto ovviamente noi siamo in questo momento dovremmo essere impegnati in tutte le campagne di aumenti salariali di ripristino della scala mobile o dall'altra parte nelle campagne diciamo per non pagare dove ricordiamoci però che la campagna principe che c'è oggi in UK Don't Pay UK è una campagna di convergenza tante volte io partecipo ad alcune discussioni con i compagni dove la interpretano subito come una campagna solitaria di autoriduzione o in cui ti mette in come dire in collegamento tra te e il tuo contatore la campagna Don't Pay UK è il contrario è una campagna fatta di convergenza tra movimenti ambientalisti sindacali con mobilitazioni di massa che si rifanno alla disobbedenza civile che l'unica che piegò o almeno scalfi la Thatcher che fu quella sulla Poltax dove ci fu sia la disobbedenza civile ma anche la campagna di massa e queste due cose non si contraddicono anzi si devono alimentare detto questo ricordiamoci anche che il salario per cui lottiamo se concepiamo il salario come tutto ciò che io riesco a strappare al capitale non è soltanto quella roba lì che è il netto in busta paga che ovviamente aveva aumentato pesantemente i calcoli dicono che un salario dignitoso non minimo oggi sarebbe in Italia di 1900 euro stando al netto stando a tutti i calcoli su statistiche fatte da ONG padronali su che cos'è il salario dignitoso ma il salario inteso come tutto ciò che io strappo al capitale è anche il salario differito quindi lo stato sociale i servizi anche il territorio e la difesa del territorio è salario differito che io strappo al capitale perché difendere un territorio da una grande opera inutile vuol dire fondamentalmente difendere un'accumulazione sociale che c'è stata su quel territorio da una rendita finanziaria e privata che poi nel momento in cui si rafforza andrà per altre vie a colpire me operaio per altri aspetti quindi per terminare visto che la discussione sul reddito la convergenza ci aiuta anche ad avere un concetto dello stesso salario meno economico e più come dire convergente di tutto quello che deve essere un salario che se è veramente ciò che permette di produrre e riprodurre la classe in tutti i suoi bisogni sociali la classe che non è un concetto economico ma è uno dei concetti più umani che ci sia ciò che respiri ciò che bevi ciò che mangi come ti curi come puoi vivere la tua sessualità come puoi vivere il tuo tempo libero la tua ricreazione e quindi come dire per noi in questo momento lo ripeto la convergenza non è il parto di chissà quale intuizione teorica non siamo non voliamo così alto purtroppo voliamo molto più basso ma è tutto ciò che ci serve per sopravvivere oggi se vuoi reggere contro il capitale devi come dire permetterti una convergenza che ti permetta di soggettivare politicamente la tua lotta che non vuol dire come si dice nel chiacchiericcio purtroppo spesso del nostro vecchiume fare il partito il coordinamento eccetera è qualcosa di molto più complesso e allo stesso tempo molto più semplice grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti